Natale con i tuoi, Pasqua con il meraviglioso gioco del baseball, tempo infatti in questo lunedì di Pasquetta di inaugurare la serie delle review sulla stagione della MLB, abbiamo giocato la opening week che appunto si è conclusa domenica scorsa e quindi nonostante abbiamo giocato soltanto 4 partite in stagione è tempo dei primi ricapitoli di questa stagione perché appunto tra quello che è successo dentro e soprattutto fuori dal campo in queste poche partite si è visto letteralmente di ogni e di conseguenza tempo per il primo appuntamento del recap mensile sul mio canale. Per quanto riguarda il baseball americano appunto un appuntamento al mese per ogni appunto mese di stagione regolare poi da ottobre in poi quando ci saranno i playoff e le World Series gli appuntamenti saranno di fatto settimanali a fine turno comunque aspettatevi dei podcast corposi a partire da questo primo episodio perché appunto tra quello che è successo in campo e fuori dal campo abbiamo tanto di cui parlare a cominciare da quello che è successo a Seoul perché quest'anno la MLB ha deciso di inaugurare la stagione una settimana prima del solito il 20 e 21 marzo si è giocata una serie di due partite a Seoul nello Skydom tra Los Angeles Dodgers e San Diego Padres squadre della stessa divisione diciamo che c'erano tante aspettative su due giocatori in particolare uno è Yoshinobu Yamamoto uno dei grandi acquisti della stagione l'altro è sicuramente Shuei Otani che è attenzionato di suo di base soprattutto adesso che è successo quello che è successo fuori dal campo di cui ovviamente parleremo perché non ci si può esimere però partiamo comunque dal baseball giocato perché comunque Otani come acquisto evidentemente era un pezzo da 90 e anche di più sappiamo che Otani dal punto di vista del ruolo che va a effettuare nei Los Angeles Dodgers in questa stagione è soltanto un battitore disegnato ma comunque Otani essendo in operazione Tommy John non può lanciare ma comunque a battere se la cavicchia abbastanza bene il ragazzo in questo senso e comunque abbiamo avuto modo di vedere come se la si è cavata in questo nuovo ruolo già in questo primo affronto con Hugh Darvish il connazionale viene salutato così con una valida a sinistra Hugh Darvish subisce il singolo di Shuei Otani che impatta questa palla l'abbiamo visto poco fa a 112,3 mila orarie per la prima valida in maglia Dodgers sappiamo che da quest'anno Otani è letteralmente lo sportivo propagato al mondo con un contratto complessivo di 700 milioni di dollari qualcosa che fa assolutamente girare la testa il problema qual è? Che questa valida potrebbe essere una delle ultime che Otani potrebbe aver battuto quest'anno con la maglia degli Los Angeles Dodgers questo perché entriamo in una vicenda extracampo appena la fine della prima gara diciamo dei Los Angeles Dodgers contro i San Diego Padres di cui abbiamo visto la Vida di Otani peraltro la gara l'ha vinta Los Angeles 4 a 1 è saltato fuori diciamo un scandalo abbastanza importante il grande amico e interprete di Shuei Otani Ipei Mizuara è stato licenziato seduta a stante delle Los Angeles Dodgers in quanto pare sia coinvolto in uno scandalo di scommesse illegali di fatto dopo qualche indagine si era scoperto appunto che Otani apparentemente fosse stato derubato di 4 milioni e mezzo questi 4 milioni e mezzo pare in realtà siano stati dati secondo le prime ricostruzioni dallo stesso Otani al suo interprete coinvolto in un giro di scommesse illegali va detto che la politica americana sportiva sul giro di scommesse è evidentemente molto pesante tra poco andremo anche a vedere cosa dice l'MLB in tal senso comunque appunto apreti cielo il giocatore più pagato della storia l'uomo franchigia degli Los Angeles Dodgers l'uomo più attenzionato di tutti coinvolto anche tramite il suo interprete in questo giro di scommesse ora queste sono le prime voci che sono saltate fuori dopo appunto gara 1 tra Los Angeles e San Diego vinta appunto dai Dodgers 4 a 1 le voci girano continuano a accumularsi rumors su rumors su rumors alla fine Otani dopo qualche giorno finita la serie in Corea peraltro impattata 1 a 1 con il San Diego Padres si difende di fatto disconoscendo l'amico questo è appunto un report su Twitter da parte di Bill Plunkett che di fatto riporta come Otani si sia come dire manifestato scioccato da quello che è successo in quanto tradito, cornuto e mazziato da questo suo amico da questo ex interprete ricordo licenziato dai Los Angeles Dodgers definito dallo stesso Otani un ladro e un bugiardo insomma per difendersi pare che Otani abbia screditato il suo grande amico il problema è che questa linea difensiva al momento pare non funzionare nel momento in cui sto registrando non abbiamo in realtà notizie su eventuali sospensioni di Otani ma appunto dobbiamo qua fare una enorme parentesi su quello che dice la regola della MLB perché di base la Lega americana è molto severa con le pene per quanto riguarda due aspetti fondamentali sostanzialmente un conto sono le sostanze stupefacenti e dopanti abbiamo visto tanti casi di giocatori sospesi per 80 partite per eccesso di queste sostanze l'altro oltre ovviamente i casi di violenza domestica è appunto il caso scommesse quello che è successo a Pete Rose è emblematico in tal senso giusto o sbagliato che sia sappiamo però che appunto quando c'è un giro di scommesse illegali la MLB tendenzialmente punisce e anche in modo molto severo e non importa che tu sia stato un potenziale allo famer come appunto Pete Rose e non importa che tu sia in questo momento il giocatore più attenzionato della storia nonché il più forte di tutti ovvero Shui Otani la regola MLB ve la riporto in questo articolo di cbssports.com dice che è espressamente proibito il giro di scommesse illegali in generale comunque scommettere in una squadra o in un'altra struttura in generale degli sport americani per chiunque sia tesserato per quella franchigia e non importa che siano giocatori, interpreti, magazzinieri, addetti alle pulizie è una cosa espressamente vietata e di conseguenza se c'è questa regola dello strictly forbidden negli Stati Uniti la sospensione è oltremodo severa nella peggiore delle ipotesi si dovrebbe vedere appunto un trattamento pitroso è detto che non ci sono voci in tal senso potrebbe arrivare una sospensione per l'intera stagione per quanto riguarda Shui Otani non ho al momento verificato eventuali notizie in merito al giornate quantomeno nel momento in cui sto registrando non ci sono appunto notizie però attenzione perché un giocatore che sicuramente è uno dei leitmotiv di questa stagione potrebbe non giocare completamente questa stagione per poi evidentemente ritornare una volta finita la pena comunque Otani avrebbe dato sicuramente un contributo importante soltanto in attacco della San Gilles Doge ma era comunque un signor contributo nel 2025 sarebbe comunque tornato a lanciare e a battere in contemporanea vedremo appunto eventuali evoluzioni di questa sanzione eventuale che dovrebbe arrivare dopo l'indagine che l'AMLB comunque ha già aperto nel corso delle prossime settimane e nei prossimi giorni questo è quello che è già successo extracampo e parliamo di fatto del primo giorno figuriamoci quello che è successo invece in campo dopo le prime quattro partite e per una volta torniamo anzi rimaniamo a Seoul per quanto riguarda gara 2 tra appunto Los Angeles Dodgers e San Diego Padres una gara 2 che comunque come ho detto prima ha vinto San Diego contro Yoshinobu Yamamoto Yoshinobu Yamamoto abbiamo detto anche nel video della free agency è stato uno dei grandissimi acquisti di questa stagione il secondo più costoso dopo di fatto Otani come trasferimento da una Lega all'altra 12 anni di contratto per 325 milioni per Yamamoto che però ha fatto parlare di sé anche lui dalla parte sbagliata qui però per fortuna si parla soltanto di campo eppure i Los Angeles Dodgers dovevano garantire prestazioni solide appunto da parte di Yamamoto che vedete con le statistiche incredibili che ha avuto nell'ultima stagione in Giappone con una media PGL di 1,21 eppure nel primo inning di fatto Yamamoto subirà non solo 3 punti da parte dei San Diego Padres ma appunto i San Diego Padres andranno a combinare un beginning con appunto una caterba di punti 5 per la precisione e non bastano appunto i ranci buoni che abbiamo visto qui di Yamamoto eccolo qui lo scoreboard dei San Diego Padres nella prima partita 5 a 0 dopo il primo inning 4 valide contro 0 peraltro questa contro San Diego sarà una partita leggendaria vincerà San Diego 15 a 11 probabilmente la partita dell'anno ma probabilmente no perché già in questo opening week abbiamo avuto tanti record che sono già stati battuti e difficilmente potranno esserlo comunque non benissimo l'avvio dei Los Angeles Dodgers dal punto di vista campo ed extracampo delle sue superstar al netto che comunque rimangono una squadra molto molto forte detto questo ci trasferiamo al presente e parliamo delle prime classifiche della stagione come al solito analizzeremo ogni singola divisione per vedere valori in campo ovviamente adesso i valori sono da prendere molto con le pinze però comunque qualcosa si è visto in corso di questa prima settimana di gioco ricordo per i nuovi che il baseball funziona in questo modo ci sono 30 squadre che giocano appunto 162 partite di stagione regolare al termine della stagione regolare ci sono i playoff e ogni squadra che vince la divisione si qualifica direttamente dopodiché per arrivare alle altre postazioni playoff e sono 6 per Lega ci sono infatti due Lega nel baseball l'American League e la National League si va a vedere di fatto il record delle migliori squadre che non hanno vinto la division in modo da che era un tabellone per appunto dalla quarta alla sesta posizione ora di questi discorsi ne parleremo ovviamente prima di avanti della stagione comunque sappiamo che una certezza c'è i New York Yankees sono forti e molto anche quest'anno e infatti hanno vinto quattro partite consecutive una grandissima partenza da parte della formazione dei Bronx Bombers che peraltro non è che hanno vinto contro Oakland o Colorado squadre ignobili hanno vinto contro gli Houston Astros quindi una squadra di assoluto livello gli Yankees hanno trovato un Juan Soto in stato di grazia che comunque sta mantenendo fede evidentemente al nome che si era già costruito a Washington a San Diego è andato altrettanto bene gli Yankees lo hanno preso in una trade quest'estate e pronti via appunto Soto è il go-to guy di questo attacco degli Yankees che deve assolutamente riscattarsi dopo una stagione scorsa che evidentemente ha lasciato parecchio a desiderare comunque partenza turbo da parte dei New York Yankees ma non è record perché c'è un record molto interessante di un giocatore in particolare che rimane sempre in questa division che però non è dei Baltimore Orioles Baltimore Orioles che comunque sono partiti bene due vinte e una persa in particolare segnalo la grandissima prestazione di Colby Burns appunto un altro dei grandi acquisti di questa estate che si è confermato anche qui ad alti livelli con 11 strikeouts nella prima partita quindi tantissima roba per Colby Burns i Boston Red Sox sono terzi a pari merito con i Tampa Bay Rays i Toronto Blue Jays quelle squadre che avevamo prosticato in questa stagione anche nella diretta con gli altri ragazzi di MLB Italia e appunto media battuta con appunto un grande marasma l'American League East sembra una squadra ovviamente una divisione interessante anche quest'anno con Boston, Tampa Bay e Toronto che se la possono giocare per motivi diversi abbiamo detto che Toronto potrebbe essere probabilmente la quarta forza Boston la quinta e Tampa Bay la terza ma appunto adesso prendere queste classifiche è relativo appunto potremmo fare dei bilanci seri veri e propri dall'All-Star Game in avanti comunque Boston può affreggiarsi di un record parecchio interessante e probabilmente imbattibile perché uno dei pochi giocatori interessanti della formazione dei Red Sox è il canadese Tyler O'Neill Tyler O'Neill è arrivato quest'anno dai St. Louis Cardinals giocatore che a me piace un sacco il giocatore canadese è di fatto un esterno destro che spesso gioca anche a sinistra è comunque noto per un attacco importante e con quello che sta accadendo nella partita contro Seattle Mariners è un record clamoroso perché questa palla viene impattata è lunga e profonda tra esterno destro l'esterno centro e viene sbattuta fuori dalle recensioni del T-Mobile Park è fuoricampo di Tyler O'Neill 6-4 per i Boston Red Sox ma quello che conta è che questo fuoricampo è un record perché il canadese ha effettuato 5 fuoricampo consecutivi in 5 opening day consecutivi con 2 squadre diverse ed è un record fondamentalmente imbattibile grandissima prestazione di Tyler O'Neill che appunto dal 2020 in avanti 4 volte con i Cardinals e una volta con i Red Sox nell'opening day l'ha sempre sbattuta fuori letteralmente nella certezza del canadese questo è un record che evidentemente sarà difficilmente battibile e dunque abbiamo finalmente un altro giocatore di sistema importante per questi Red Sox che possono basarsi su Devers su Yoshida e su O'Neill come core per il resto sarà una grande squadra in rifondazione ma comunque c'è grande soddisfazione fin da subito per i Red Sox e se ecco con i Red Sox abbiamo i Tampa Bay Rays e i Toronto Blue Jays che sono appunto a 2 vinte e 2 perse ma comunque anche qui c'è tempo per evidentemente fare ulteriori bilanci e risalite siamo all'American League Central dove abbiamo come prima squadra i Detroit Tigers 3 vinte e 0 perse una partenza turbo da parte dei Tigers che evidentemente hanno sfruttato il momento di ricostruzione e sono comunque interessanti in questa posizione non dovrebbero avere grosse chance di division certo l'American League Central è una divisione molto poco competitiva e quindi tranne forse i Chicago White Sox e i Kansas City Royals possono evidentemente avere tutti i chance di passare come prima per quanto riguarda i playoff di fine stagione in seconda posizione oltre ovviamente i Detroit Tigers siamo i Cleveland Guardians con 3 vinte e una persa Minnesota è terza con 2 vinte e una persa i Kansas City Royals sono a una vinta e due perse e ultimi sono i Chicago White Sox che sono ovviamente in piena rifondazione i Chicago White Sox in realtà è uno dei pochi valori in campo che possiamo confermare non mi aspetto grandi cose da loro 0 vinte e 3 perse con appunto 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 partite passiamo invece a parlare della American League West dove abbiamo i campioni in carica dei Texas Rangers che sono partiti con 2 vinte e una persa peraltro la partita dell'opening day dei Rangers l'ho vista e ne dobbiamo parlare perché è molto interessante in seconda posizione abbiamo il Seattle Miners con 2 vinte e 2 perse una squadra comunque accreditata molto bene Seattle con una grande rotazione dei lanciatori partenti un attacco giovane ma di prospettiva concreto già adesso in terza posizione abbiamo i Los Angeles una vinta e 2 perse Oakland incredibilmente non è ultima con una vinta e 3 perse e appunto ultimi sono gli Houston Astros che appunto però hanno giocato contro gli Yankees quindi questo 0 vinte e 4 perse è veramente relativo gli Yankees hanno dato una grande motivazione di superiorità contro questi Houston Astros che si è vero hanno perso Dusty Baker come allenatore ma comunque rimangono sempre gli Houston Astros quindi una squadra da temere assolutamente per in ottica playoff parliamo però invece dell'altra squadra Trexana perché abbiamo parlato dei Texas Rangers campione in carica che hanno esordito in casa al Globe Life Field contro i Chicago Cups ho avuto modo di vedere gara 1 e gara 1 è veramente bellissima perché ovviamente come abbiamo detto all'inizio di questo video ci sono state pochissime partite giocate 4 nella maggioranza dei casi eppure sono successe tantissime cose e qui parliamo di campo perché appunto la partita finisce agli extra inning Texas batte Chicago Cups al primo inning supplementare per 4 a 3 con peraltro una dinamica parecchio interessante perché siamo di fatto pari nella parte alta del nono viene chiamata una palla secondo la difesa dei Texas Rangers in foul la difesa si ferma in realtà la palla è in gioco arriva il punto del vantaggio dei Chicago Cups con una corsa sulle basi per 3 a 2 su un giro di mazza a vuoto che non è stato chiamato foul erroneamente dall'arbitro di conseguenza bisogna rimontare per i Texas Rangers si va nella parte bassa del nono non ci sono al momento opportunità dei grandi campioni è entrato Travis Jankowski giocatore di sistema che parte spesso dalla panchina contro Albert Arzolai uno dei closer più interessanti dei Chicago Cups ebbene Jankowski decide bene di affrontare il giocatore venezolano sul conto pieno e fare questa roba qui la palla viene impattata molto bene viene sbattuta fuori oltre alle licenze del Globe Life Field il fuoricampo è del pareggio ed è quello di Travis Jankowski il giocatore che letteralmente non ti aspetti che riesce a pareggiare i conti nella parte bassa del nono e regalare quantomeno i supplementari ai Texas Rangers supplementari che appunto senza fare troppi spoiler sono evidentemente a favore della formazione dei Rangers e Jonah Haim il catcher che ha interpretato male in realtà la chiamata dell'arbitro si riscatta con questo singolo nella parte bassa del decimo che porta a casa Josh Young arriva il punto del 4-3 i Texas Rangers mettono la freccia sorpassano i Caps e vincono in walk-off 4-3 una grandissima partita segno che comunque questa squadra anche in attacco è decisamente profonda e può ribaltare qualunque tipo di risultato peraltro attenzione ai Rangers che hanno schierato già in prima partita Wyatt Langford uno dei rookie più interessanti di questa lega probabilmente candidato al ROTI 2024 per quanto riguarda ovviamente l'American League attenzione perché anche Langford ha già contribuito con un RBI in questa prima partita vedremo come si comporterà il giocatore con la maglia numero 36 Meridge sono da corsa anche a sto giro e se la capabilità e la voglia è quella della prima partita attenzione alla formazione di Bruce Bochy passiamo adesso alla National League dove appunto passiamo come al solito nella nostra rassegna da Est a Ovest e anche qui i valori in campo sono assolutamente quelli della vigilia quantomeno quelle che avevamo pronosticato gli Atlanta Braves sono in prima posizione con 2-20 e una persa in seconda posizione abbiamo i Philadelphia Phillies con una vinta e due perse i Washington Rangers sono ex equo con una vinta e due perse deludono un sacco più i Miami Marlins che i New York Mets abbiamo detto io sono un tifoso dei New York Mets e francamente vederli a 0-23 perse è un pochino qualcosa che mi aspettavo sappiamo che i Mets hanno una stagione di transizione in corso nonostante abbiano comunque avuto un buon colpo dal mercato dopo quello di Harrison Bader ovvero quello di J.D. Martinez il giocatore tra le altre dei Boston Red Sox comunque ci sta che evidentemente anche con Kodai Sangaka infortunato e una rotazione da sistemare i Mets abbiano avuto delle grandissime grandissime difficoltà peraltro appunto i Mets non è che hanno affrontato peraltro una squadra improvvisata appunto i Mets affrontavano i Milwaukee Brewers delude molto Miami in realtà che anche Miami ha avuto però una aggramante perché Miami affrontava Pittsburgh e Pittsburgh infatti è prima nella National League Center una partenza così di Pittsburgh non arrivava di fatto da tempo in membro è successo solo quattro volte negli ultimi 40 anni che i Pirates partissero con 4 vinte e 0 perse e di conseguenza abbiano reso Miami una squadra orrenda anche se Miami in realtà è una squadra tutt'altro che trascurabile Pittsburgh sorprende non è nuova in realtà la formazione dei Pirates ha partenze turbo anche la scorsa stagione per un mese di fatto è stata nelle prime due posizioni poi ovviamente è calato anche il compito nell'infortunio di Onel Cruz è degno di nota come appunto nella National League Central i Pittsburgh Pirates siano in prima posizione davanti a una squadra comunque più quotata come Milwaukee Brewers che hanno sweepato i New York Mets in seconda posizione appunto la formazione del Wisconsin che comunque ha avuto un buonissimo impatto terzi sono i sensi nati Reds con due vinte e una perse Chicago Cubs di cui abbiamo parlato prima sono a una vinta e due perse San Luis Cardinals invece sono di fatto confermati ultimi con una vinta e tre perse al netto che comunque sono accreditati anche loro di una buona rotazione ma comunque al momento ai Cardinals manca l'attacco ma appunto è ancora presto per fare dei bilanci è molto interessante invece la National League West perché gli Arizona Diamondbacks riprendono un po' da dove sono appunto terminati nella scorsa stagione ovvero vincendo e facendo delle formazioni e delle partite interessanti tre vinte e una perse per i vice campioni in carica con una appunto posizione solida di vantaggio su Los Angeles Dodgers San Diego Padres San Francisco Giants e Colorado Rockies i Dodgers però insieme ai Padres hanno più partite giocate perché ricordo che hanno giocato in Corea a Seoul 4 vinte e 2 perse per i Los Angeles Dodgers nonostante il caso Otani i San Diego Padres sono con un onesto 50% tre vinte e tre perse i San Francisco Giants due vinte e due perse e Colorado Rockies una vinta e tre perse di questa division però dobbiamo parlare perché si parla di mercato e non solo perché avevamo comunque lasciato in sospeso un paio di nomi molto interessanti in free agency parliamo ovviamente di lanciatori e sono andati entrambi in National League West a cominciare da Blake Snell Blake Snell che era uno dei più grandi free agent che era rimasto in circolazione dopo appunto l'ultima sessione di mercato rimane Snell nella National League West ma da San Diego si sposta a San Francisco un contratto biennale per 26 milioni di dollari per il 31enne di Seattle che però ha un'opzione di uscita dal 2025 per evidentemente andare in free agency a cercare contratti migliori Snell è un grandissimo colpo lui e Logan Webb possono essere i go to guide della votazione dei San Francisco Giants Snell non ha ancora esordito con Frisco ma comunque mi aspetto una stagione degna del Cy Young Award del 2023 per chi non conoscesse il Cy Young Award è il premio dato al miglior lanciatore per ogni singola lega ebbene Snell avrebbe vinto sarebbe campione in carica l'altro nome molto importante per quanto riguarda invece la free agency della National League West è Jordan Montgomery che da campione in carica si sposta agli Arizona Diamondbacks che comunque hanno integrato il core di squadra giovane che hanno in questo momento con giocatori di rilievo esempio Jack Peterson esempio appunto Jordan Montgomery Jordan Montgomery ha firmato un contratto annuale quindi si gioca tutto nel 2024 il campione in carica 31enne appunto del South Carolina ma comunque è evidentemente lui il go-to guy della votazione dei D-backs insieme a Zach Gallen insieme ai rookie che hanno fatto molto bene vedi per esempio Mary Kelly vedi per esempio Brandon Fudd D-backs che peraltro si sono resi protagonista in attacco contro quello che resta dei Colorado Rockies perché abbiamo avuto un altro record che difficilmente sarà battuto abbiamo parlato di Tyrone che ha fatto 5 fuoricampo in 5 brindei consecutivi di Arizona Diamondbacks invece contro i Colorado Rockies squadra che è pronosticata comunque nelle retrovie della classifica ha affettuato una parte bassa di inning contro i Rockies da paura lo leggete bene nel titolo 14 punti realizzati nella parte bassa del terzo inning si partiva sull'1-1 e alla fine il risultato sarà clamoroso qui vediamo che succede veramente di tutto rettifico in realtà si partiva sul 2-1 e qui si è concluso con due eliminati sul 16-1 per quanto riguarda i D-backs i Serpenti hanno fatto quello che volevano evidentemente dei Rockies per la disapprovazione peraltro di Chris Bryant questa è l'ultima valida che di fatto conclude la mattanza non ho mai visto nell'opening day così tanta roba 14 punti in un inning record evidentemente irripetibile e imbattibile come appunto i 5 fuoricampo consecutivi di Tyler McNeill insomma abbiamo avuto una opening week clamorosa già molto interessante per quello che è successo in campo e soprattutto fuori dal campo se questo è l'inizio non posso immaginare come ci si arriverà a ottobre con gli appuntamenti che conterranno davvero in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questa prima puntata della MB Review sulla vostra squadra del cuore su quello che è successo sul caso Tani e tutte le connessioni del caso ci vediamo con il baseball il mese prossimo ad ogni inizio mese vi ricordo video e podcast anche su Sprick e le altre piattaforme per parlare di Regular Season della MLB il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ieri